Buongiorno, in questa lezione vi spiegheremo come si pota il melo. In questo caso abbiamo un melo, una varietà tardiva gialla, una vecchia varietà, che produce tendenzialmente su quelli che si chiamano brindilli, cioè dei corti rametti che producono sulla punta. Questa è una pianta allevata a vaso ed è una pianta che ha un'impalcatura molto bassa. Ricordatevi che più la pianta ha un'impalcatura bassa, più la pianta rimarrà bassa anche da adulta. La prima cosa che si osserva in questa pianta è l'enorme caos dovuto alla presenza dei succhioni, che sono i primi che toglieremo. I succhioni andrebbero tolti in estate, quando sono piccoli, ma spesso ci dimentichiamo di andare in campagna e guardare le nostre piante. Allora ce li ritroviamo adesso. Abbiamo quasi finito di tagliare i succhioni, rami. Vedete che la pianta è più pulita ed è meno ingolfata di rami. Ricordatevi che se un ramo è verticale ed è molto vigoroso, tende ad andare a legno. Se un ramo invece è orizzontale, tende ad andare a frutto, cioè tende a fare gemme che faranno frutta. Questo è un esempio di un ramo che un po' di anni fa è stato piegato e ha prodotto dei rami laterali che faranno la frutta. Ecco perché le piante da frutto hanno le branche primarie e secondarie che sono aperte e non invece verticali. Altro aspetto fondamentale è la potatura delle cime. Tutte le cime devono essere più o meno la stessa altezza. Vuol dire che dobbiamo più o meno cercare di avere la punta di ogni branca primaria alta allo stesso modo. Per cui questa è una punta, questa è un'altra punta e quest'altra è un'altra punta ancora. Così la pianta cresce in modo equilibrato. Dopo aver potato la pianta, tolto i succhioni, risistemate le cime, diamo un'occhiata anche a quelle che sono le branchette secondarie e verifichiamo se c'è un'eccessiva quantità di brindiglio o lamburde. In questo caso ritaglio su un brindillo, ho delle lamburde fruttifere e tolgo eventualmente dei rami dorsali. Questa branchetta è una branchetta che mi darà sicuramente delle mele. Poi girando attorno alla pianta, se individuo altri punti in cui ho un eccesso di vegetazione, intervengo con delle posizioni potature di contenimento. Ricordatevi che non bisogna mai cimare i rami dell'anno, così. Se voi tagliate i rami dell'anno togliete la possibilità di avere la frutta che sta sulla cima. La potatura del melo è terminata e ci vediamo alla prossima potatura. Grazie. Grazie.